Buonasera, seconda edizione del Tg Riviera dei Fiori. Apriamo il nostro telegiornale parlando del bilancio del festival che questa mattina ha fatto anche il questore d'Imperia. Infatti la settimana del festival è tradizionalmente una delle più impegnative per le forze dell'ordine, la garanzia dell'ordine. La tutela degli ospiti del festival, la prevenzione al fine di garantire un buon livello di sicurezza a fronte dell'arrivo di tutti gli addetti a lavori. Per quanto riguarda il festival di migliaia di turisti richiede un grande sforzo da parte di tutte le forze dell'ordine. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e assistenze di varia natura. Questa mattina il questore d'Imperia Pasquale Zazzaro nel corso di una conferenza stampa ha tracciato un bilancio dell'operazione Festival Sicuro per quanto riguarda il lavoro della Polizia di Stato. Sono stati effettuati 11 arresti da parte del commissariato di Sanremo guidato dal vicequestore aggiunto Lorenzo Manso e quattro dalla squadra mobile agli ordini del dirigente Massimiliano Russo. Sono stati espulsi tre clandestini e chiusi tre locali pubblici a Sanremo, il Whisky Agogo, i bar La Mollica Birichina e il Marisol, rispettivamente per 15 e 8 giorni. Sono stati poi effettuati tre arresti per spaccio di droga, cocaina, con sequestro di complessivi 600 grammi. Sei le persone arrestate per furti in esercizi commerciali, due quelle fermate perché sorprese mentre tentavano di sfondare la porta di un'abitazione. Sentiamo quindi il questore al microfono di Alberto Guasco. Oggi l'occasione per fare il punto sulla gestione del servizio pubblico e dell'ordine pubblico in una settimana complessa come quella del Festival. Innanzitutto che filosofia avete utilizzato? Avete messo sul campo tutti gli uomini possibili? Il Festival è finito, quindi è il momento di fare il punto della situazione e anche di ringraziare tutti quelli che hanno preso parte, che hanno collaborato, che hanno concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica. Servizi che come sapete sono stati pensati, ideati, coordinati sin dall'inizio, con notevole anticipo, in sede di comitato di ordine e sicurezza pubblica con il prefetto e la dottoressa Fiamma Spena. E poi sono stati diretti ovviamente dalla questore, dalla questura con i suoi funzionari e unitamente all'arma dei carabinieri, unitamente alla guardia di finanza, alla polizia municipale della città di Sanremo. E tutti quanti insieme abbiamo messo in piedi una bella macchina che ha lavorato molto bene, che ha portato ad ottimi risultati. Il risultato è di poter avere un festival tranquillo, sereno, dove tutti quanti si sono più o meno divertiti. Un lavoro che è iniziato ben prima del festival di Sanremo, avete iniziato delle operazioni sul territorio già una settimana prima. Certo, un lavoro che è iniziato molto tempo prima, come dicevo in sede di comitato di ordine e sicurezza pubblica, come dicevo prima, che poi è stato portato avanti anche in collaborazione con i funzionari della RAI, che sono sempre molto puntuali e precise e con i quali abbiamo ormai un rapporto di grande affiatamento nell'esecuzione dei servizi. Si parte con un notevole anticipo, cercare di fare le cose sempre al meglio e anche quest'anno ci siamo riusciti tutti insieme. Molte volte si tratta di un lavoro sotto traccia che il cittadino non percepisce subito, perché operate anche in borghese, siete intervenuti in caso di furti in appartamento, di spaccio di droga, di rapine. Bravo, sono servizi molto spesso sotto traccia, cito ad esempio quelli della sicurezza per Carla Bruni, l'ex Premier Dam, sono servizi che ci impongono di muoverci con grande discrezione, riservatezza e nel quale approfondiamo sempre il massimo impegno. Al di là di questo poi abbiamo dispiegato una macchina di prevenzione molto 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 importante, soprattutto in palo ovviamente della Polizia di Stato in questo momento, in questo caso, con potenziamento dei servizi di controllo del territorio e con un notevole impegno da parte del tutto il personale del commissariato di Sanremo ed anche della squadra mobile che ha portato a realizzare 15 arresti in così poco tempo, la maggior parte dei quali per furti e per droga. Abbiamo chiuso alcuni locali a sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi pubbliche sicurezza, abbiamo fatto una serie di sanzioni amministrative ad altri locali che non erano a norma. Abbiamo lavorato, mi piace sottolinearlo, anche con l'Agenzia delle Entrate, abbiamo realizzato una tasca forse per meglio operare sul territorio e abbiamo portato a casa, dal mio punto di vista, ottimi risultati dei quali ne sono molto soddisfatto e per il quale ringrazio tutto il personale della Polizia di Stato che ha partecipato a questi servizi. E per quanto riguarda la dinamica dei fatti relativi alla contestazione avvenuta alla prima parte del festival nei confronti del comico Maurizio Crozza, quasi costretto a interrompere il suo intervento, il questore Pasquale Zazzaro ha precisato che si è trattato di un disturbo formato da non più di 5 persone, tre in platea e due in galleria, tra cui un imprenditore di Milano iscritto ad un patito del centro-destra e gli altri di Verona. Il parapiglio che è seguito al loro intervento è stato causato dalla reazione di altri spettatori che invitavano i 5 a lasciare proseguire lo spettacolo anche se non era gradito. Il questore ha ricondotto l'intervento dei contestatori a un fatto di cattiva educazione, infatti che nei loro confronti non è stato adottato alcun provvedimento. E durante la conferenza stampa è stato anche ufficializzato l'avvicendamento al comando della squadra volante affidata ora al commissario capo Adriana Di Blase, 37 anni, che lascia il suo incarico di direttore dell'ufficio del personale tecnico-logistico per assumere la direzione dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, al cui interno è collocato anche il servizio di pronto intervento 113. Adriana Di Blase, laureata in giurisprudenza con il titolo di avvocato e il master in scienza della sicurezza, andrà a guidare circa 50 agenti e sostituisce il commissario capo Massimiliano Migliaccio, che viene trasferito a Tauria Nova. A sostituire Adriana Di Blase al settore personale sarà il commissario Simone Macri, 33 anni, due laurei in giurisprudenza e scienze dell'amministrazione, abilitato alla professione di avvocato e atleta di arti marziali. L'incarico di dirigente dell'ufficio immigrazione è stato invece conferito al commissario Lara Cianciulli, 33 anni appena compiuti, anche lei laureata in giurisprudenza e ancora diplomata presso la scuola per professioni legali di Roma. Anche lei è sportiva e campionessa di atletica leggera. E continuiamo con la tronaca. Tragico evento questa mattina a Sanremo. Il giudice Lorenzo Purpura del Tribunale Mattuziano si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa nella sua abitazione in via Val del Ponte. Aveva 70 anni, era stato messo a congedo per raggiunti limiti di età all'inizio dell'anno. Nel corso della sua carriera aveva prestato a lungo servizio a Bergamo e da tanti anni viveva e lavorava a Sanremo. È stata la sua compagna ad accorgersi di quanto accaduto e quindi a chiamare i soccorsi. Il magistrato era molto apprezzato dai colleghi e dagli avvocati. Da tempo ormai lavorava come giudice monocratico e di collegio. Lascia la compagna e quattro figli, un figlio maschio e tre figlie femmine. Una frontaliera di 32 anni di armaditaggio è rimasta ferita questa mattina in un incidente in auto provocato da un probabile colpo di sonno mentre si stava recando al lavoro a Mentone. A bordo della sua auto è uscita fuori strada mentre percorreva l'autofioli tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia. Si è schiantrata contro due guard ride e quindi è finita contro il muro all'ingresso della penultima galleria prima del confine. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio di ponente emergenza. La donna impiegata per un supermercato all'uscita dello svincolo di Mentone dell'autostrada è stata stabilizzata e poi portata in ospedale. L'ha riportato il classico colpo di frusta, guarirà in una decina di giorni. E caccia aperta al secondo rapinatore. Continuiamo con la cronaca che sabato ha saltato la gioielleria Odello in via Rome a Sanremo. La rapina era avvenuta sabato mattina approfittando della confusione festivaliera e nonostante l'imponente spiegamento delle forze. Due immigrati tunisini clandestini sul territorio erano entrati nella gioielleria e puntando un coltello alla gola del titolare si erano fatti aprire la cassaforte fuggendo con il bottino, poi tra la folla del festival, bottino di 20.000 euro tra collane, anelli e bracciali. Immediatamente gli agenti del commissariato si erano messi sulle loro tracce. Uno dei due rapinatori era stato arrestato poche ore dopo su lungomare Italo Calvino. Per i poliziotti anche il battito in fuga sarebbe un cittadino tunisino. La sua cottura potrebbe portare al recupero anche del bottino che la coppia ha razziato appunto nel negozio. E cambiamo argomento. Ha preso il via questa mattina intorno alle 5 sul plateatico di Valle Armea Sanremo nel mercato dei Fiori la gestione diretta da parte di Amaie Energia della struttura. Amaie Energia partecipata del Comune, il cui amministratore Mauro Albanese si occuperà anche del mercato e quindi è diventato amministratore della struttura floricola. Il servizio di gestione prevede l'asta floricola con inizio alle 5.45, i giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Verrà poi ritirata la merce per l'asta sabato, domenica, martedì e giovedì. Al momento rimane aperto il 50% del piazzale del mercato, il resto verrà per il momento non utilizzato in attesa dei lavori per metterlo a norma antincendio. Sono stati assorbiti nella gestione diretta di Amaie Energia anche i 20 lavoratori della precedente gestione Ucfor. È stato però ridotto loro del 30% l'orario proprio per una immediata necessità di contenimento dei costi. Mauro Albanese avrà il supporto sia del presidente di Amaie Spa Gianni Rolando e del capo del personale di Amaie Gianluca Odone. Gli obiettivi della gestione sono quelli di gestire il passaggio da Luxor in maniera indolore, migliorare la gestibilità del mercato nell'interesse di operatori e produttori e soprattutto colmare le carenze strutturali, ma anche utilizzare non solo per scopi floricoli ed economici, ma anche per turismo, manifestazioni e spettacolo il mercato di Valle Armea. Il bilancio positivo, passiamo ancora ai bilanci del Festival, questa volta per il Casinò. Bilancio positivo per la casa da gioco nella settimana del Festival. I tanti programmi televisivi e radiofonici che hanno fatto base nel teatro e nelle sale hanno movimentato VIP e personaggi, ma anche tanto visitatori. Le slot machine hanno incassato più di un milione di euro in linea con il Festival del 2012. Nimezzati invece i giochi tradizionali che hanno risentito maggiormente della crisi. Complessivamente nella settimana festivaliera la casa da gioco ha incassato quasi un milione e mezzo di euro. E rimanendo nella casa da gioco, domani tornano gli appuntamenti con i martedì letterari. Alle ore 16 verrà inaugurata la mostra Casinò i giochi d'immagine, una mostra dedicata alla progettazione della casa da gioco a partire dagli anni 1903. Verranno quindi messi a punto in esposizione progetti mai presentati, mai soprattutto organizzati in una esposizione. Curatrice della mostra, dottoressa Federica Flore, su documentazione dell'architetto Cagno Tiri. Successivamente alle 16.30 per i martedì letterari, anteprima nazionale con il professor Carlo Pedretti che terrà la relazione sulla bellezza in Leonardo da Vinci. Presentando anche l'opera I 100 disegni più belli di Leonardo da Vinci, dell'aggiunti e tre cani. Il professor Carlo Pedretti è considerato il maggiore conoscitore del genio vinciano a livello mondiale. Infatti ha una cattedra di studi vinciani nell'Università di Los Angeles in California. Domani alle 16.30 quindi i martedì letterari con Carlo Pedretti nel teatro dell'opera del Casinò. Bene, siamo arrivati in chiusura del nostro notiziario. Adesso Achille Pennellatore col meteo Liguria. Subito dopo gli spazi approfondimento. Grazie di seguirci. Signori a tutti, buonasera. Per il momento siamo ancora in condizioni di alta pressione, 1016-1017, gli ectopascal, però intravediamo già da metà settimana in avanti, quindi più o meno da giovedì, l'entrata di aria fredda continentale dalle pianure sarmatico danubiane, quindi in parte dalla Russia. Non si vede ancora proprio sull'animazione del satellite che sono degli altri corpi nuvolosi, ma vedete che si arrestano contro queste condizioni di alta pressione. Se proprio vogliamo cercare un primo sintomo, lo vediamo qua, in alto, a destra del teleschermo, queste nuvole che vedete qua. Pian piano si porteranno verso sud e poi da est entrerà il freddo dai Balcani. E se non volete che arrivi il freddo dai Balcani, chiudete i balconi. A parte scherzi, questa sarà un po' la caratteristica di freddo secco continentale, ma a tratti anche con precipitazioni, che avremo da giovedì in poi. Ce ne occuperemo fra un po'. Adesso andiamo a vedere la cartina per domani, martedì alle ore 13. Vedete che tutta l'Italia è praticamente sgombra da nubi, a parte questa linea di instabilità sul Tireno meridionale, sull'Adriatico meridionale, poi a sud della Sicilia questa occlusione. Qua si sta costruendo il freddo, che sarà introdotto da questo fronte qua, però poi pescherà direttamente dall'Europa dell'Est. Previsione per domani, martedì. Sereno o poco nuvoloso, solo localmente qualche addensamento in più, cumuliforme, senza precipitazioni. Le temperature praticamente stazionarie. Un vento intorno levante greco, tra est e nord-est, 5-15 nodi, localmente venti, ma fra Capomele e la Costa Azzura, durante la giornata potrà arrivare, come oggi, più o meno a 25 nodi. Il mare sarà poco mosso o mosso sotto costa qui sul Ponente, poco mosso sul Levante, senz'altro sarà mosso sulle zone dell'Arco. Ora vediamo la cartina per mercoledì. Per mercoledì, vedete, questo fronte di irruzione, pian piano comincia a entrare sulle nostre zone, pescando proprio dalla Lappogna, ed è appena scavalcato le Alpi. Quindi mercoledì al mattino avremo tempo buono, o perlomeno poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella notte tra mercoledì e giovedì le prime precipitazioni, nevose a quote relativamente basse. Vento che andrà incontro alla perturbazione da ovest, 10-20 nodi e mare mosso. Temperature per mercoledì ancora stazionarie. Ultimo giorno. Vediamo adesso giovedì. Il fronte pian piano scende, lo vedete, sta interessando la Ligure, intanto le correnti cominciano a disporsi da est. Quindi giovedì qualche precipitazione, nevosa in abbassamento di quota, temperatura in diminuzione, e il vento comincerà a provenire di nuovo dal Levante greco, ma non pescherà solo dalla pianura padana, ve l'ho detto, pesca da molto lontano. Vediamo adesso la cartina, l'ultima che vi faccio vedere di Bracknell, è quella per venerdì. Sistema perturbato nel Mediterraneo. Ecco qua queste correnti parallele che arrivano proprio dalla porta di este. E da lì arriva il vero freddo. Non arriva da nord, nord-ovest, nord-est. Arriva proprio di qua, dal continente. E da giovedì in poi, venerdì, sabato e domenica, farà proprio freddo. Ne riparleremo. Buonasera a tutti.